Buongiorno, allora, due importanti risposte a domande che mi avete fatto. La prima riguarda l'aggiornamento necessario dei vostri dati in caso di variazione del nucleo familiare o del patrimonio mobiliare, cioè i soldi, insomma. Perché vi dico che è importante? Perché se non lo fate entro 30 giorni dalla variazione e vi beccano, perché non è solo l'Inps, è anche l'Agenzia delle Entrate che si occupa di questa cosa e quindi se ne occupa anche la Guardia di Finanza, voi non solo perdete il reddito, ma rischiate una denuncia. E non solo rischiate una denuncia, dovete restituire anche i soldi. Non tutti, ma quelli intascati nei mesi in cui, a causa di questa variazione, il vostro reddito era diverso da quello previsto. Capite? Se questo comporta la decadenza del reddito, dovete accettarlo, perché il reddito è una misura di sostegno agli altri redditi della famiglia. Non è una misura che sostituisce i redditi della famiglia. Ma se voi non lo fate, e poniamo che, facendo tutti gli scongiuri, dopo qualche mese vi ritroviate nella necessità di averlo chiedere, ma vi è stato fatto decadere dall'Inps, voi per 18 mesi non potete richiederlo. Si riducono a sé se c'è un disabile, ma è comunque mesi in cui non avreste nessuna copertura. E non è detto in automatico che dichiarare questa variazione comporti la decadenza del reddito. La decadenza del reddito avviene se la cifra che entra, cioè la variazione è tale da superare la soglia disegnata per il vostro nucleo familiare dell'Ise. Per dire, se siete un single, se superate i 9.360 euro all'anno, decade. Se siete sotto, no, varia la cifra che viene erogata. Stessa cosa per un nucleo familiare che ha un Ise molto più alto in rapporto al numero dei figli, alla presenza di disabili. Ma se non lo fate, lo perdete a prescindere dalla vostra situazione. E non è una cosa positiva. Stessa cosa nel caso che all'interno della famiglia esca o entra qualcuno al nucleo familiare. Dovete comunicarlo. Se esce qualcuno, potrebbero anche abbassarlo di qualcosa. Ma se entra qualcuno e non lo dichiarate, ci smenate voi, perché a lato pratico magari con quella persona in più vi danno qualcosa in più. Anche se, ve l'ho detto, per quanto tridico possa avere ragione su questo punto, i soldi per fare questa variazione non ci sono. Ne servirebbero un botto allucinante e non ci sono. Per cui comunicatelo. Non prendete questa cosa sotto gamba. Lo dovete comunicare. Comunicatelo innanzitutto all'IMS. E se si tratta poi di cose che riguardano una variazione proprio di residenza, vi spostate, allora dovete comunicarlo al centro per l'impiego. All'IMS prima di tutto. Ovviamente dopo aver certificato il cambio di residenza nei comuni. Poi lo comunicate al centro per l'impiego, che dovrebbe provvedere a comunicarlo al navigator. Nel caso, se avete il numero del navigator, e quindi siete uno che ha fatto 6 a super e nalotto, lo comunicate anche al navigator. Ma questa comunicazione va data. Va data perché in mancanza di questi dati l'IMS può agire contro di voi. E non è una cosa saggia. La seconda cosa è riguardo all'assegno di ricollocamento. Secondo me qualcuno fa un po' di confusione. L'assegno di ricollocamento viene dato all'ente, istituto, quel che volete adesso, che vi fornisce un corso o una prestazione educativa che vi permette o una riqualificazione lavorativa o una ricollocazione lavorativa. Per dire, facciamo un esempio banalissimo, se uno trova un corso per mulettisti, non ha mai fatto il mulettista, fa il corso, riceve il patentino per mulettista, ecco, questo è un corso che vi riqualifica dal punto di vista lavorativo. Voi dovete comunicare questo, fare la richiesta attraverso i canali ufficiali, quindi attraverso l'IMS, e vi consiglio di farla attraverso un CAF, non fatela voi online, perché ho visto che è un po' un pasticcio, in modo che l'IMS riconosca a questo ente, a questo istituto, l'assegno per coprire le spese della vostra riqualificazione professionale. Non è l'AMPAL che deve cercarvi l'istituto, non è tizio, dovete farlo voi, non è l'AMPAL che si occupa di queste cose. Se trovate un corso sul sito dell'AMPAL, quel corso non è dell'AMPAL, quel corso utilizza il sito dell'AMPAL come banner pubblicitario. Voi vi iscrivete a quel corso, ma poi dovete comunque contattare l'IMS, contattatelo attraverso un CAF, dire, mi sono iscritto a questo corso, voglio accedere alla signora di ricollocamento, e toccherà poi da una parte all'IMS e dall'altra a chi vi fornisce il servizio, interfacciare i dati in modo che l'IMS possa pagare questo corso. A voi in tasca non passa niente e soprattutto non dovete chiedere all'AMPAL di farlo per voi, dovete farlo voi. E' questo il senso dell'assigno di ricollocamento. Voi trovate un corso, una scuola, quel che è, e che vi può riqualificare o che può insegnarvi un altro tipo di mestiere, vi iscrivete, prima di fare l'iscrizione, contattate l'IMS attraverso un CAF, secondo me è molto meglio, e chiedete l'assigno di ricollocazione che coprirà le spese del vostro corso di studi. Non è l'AMPAL che lo fa, non è l'IMS che lo fa, dovete fare voi. Poi loro, l'IMS, di fatto erogherà i fondi per coprire questo corso, ma non saranno loro a cercarvele, quindi dirmi, ma non lo vedo sul sito AMP. Sul sito AMP è quello che c'è, sono banner pubblicitari. Cioè, un istituto dice, noi facciamo questi corsi, se volete accedere i corsi sono questi. Scusatemi, ma avete mai visto, faccio un esempio banale, i corsi ASA, degli operatori di supporto così, se uno di voi si vuole iscrivere a un corso ASA, che ha un suo costo, non è propriamente economico, può iscriversi a questo corso, fornire i dati del corso all'IMS, che attraverso il meccanismo dell'assegno di ricollocamento coprirà le spese del corso. Non è l'IMS che chiama l'ASA, si mettono da codico, chiamami questa persona, perché non è il loro compito. Tenete conto che l'assegno di ricollocamento, le norme per la gestione dell'assegno, dovevano partire praticamente insieme al reddito. Dopo un anno e mezzo, anzi facciamo due, perché sono uscite praticamente a cavallo dei rinnovi, dopo i rinnovi, non erano ancora uscite le circolari, stanno uscendo adesso. Per cui, perché vi dico di appoggiarmi a un CAF? Perché ancora adesso, la procedura di accesso a questo tipo di contributo, è fumosa, è fumosa, e si può effettivamente sbagliare. Cioè, bisogna avere la certezza, prima di entrare in questi corsi, che l'Inps abbia erogato questi fondi, perché sennò voi entrate, l'Inps non è erogato i fondi, e i soldi li chiedono a voi. Prima, quindi, per questo che vi dico che serve un CAF, serve qualcuno che nel dubbio, possa interfacciarsi con l'Inps, da un punto di vista anche legale. Per voi, interfacciarsi con l'Inps, da un punto di vista legale, potete chiamare un avvocato, e sono soldi, buttati via. Quindi, capite bene questo, dovete cercarlo voi, se lo trovate, attivate la procedura dell'assegno di ricollocamento, e questo assegno coprirà le vostre spese, dal punto di vista dello studio, fino a un certo livello, che per buona parte dei corsi che ci sono, dovrebbe bastare, nei 5.000 euro massimi, dovrebbero bastare. Ma non è, né Ampa, né Inps, che deve fare la prima mossa. Io adesso vi saluto, intanto che va in caricamento questo, per fare un secondo video. Ciao a tutti.